Circa un anno e mezzo fa è arrivato lui, il grande, Antonio Banderas. Cavallo! Francesco! E voglio di andare a cavallo? E il bimboli? Sì! Andiamo! Ci sei Francesco? Andiamo! E fa a me Francesco? E minchia! Cinque giorni di cavallo! Sì! Sì Antonio! Ho fame! Ecco qua, messaggela. Il bambino fa un errore gravissimo, sbaglia il nome. Hai fatto la focaccia? Bambino da mierda! Questa si chiama focaccella. Sbaglia ancora una volta, i picciotti e matto. Sono le focaccelle, è sempre... Ciao ragazzi! Quante storie per il suo pane. Cioè, penso che il pane è buono solo il suo. Un momento, c'è pane e pane. C'è pane e pane. Io prendo il pane e te lo spago la fana. Rosita? Dove è Rosita? 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 Ma dove diavolo che sei cacciata? Rosita, ma che hai? Mi ha chiesto l'amicizzo su Facebook. Invece voleva solo darmi due col. Si vede che non era quello giusto. Adesso ti aiuto io. Vedi caro Rosita? Ora ti aiuterò a dimenticarlo. Sai come? Facendo 6.000 biscotti con la sua faccia. Non accontentarti di un galletto qualunque. Ecco la mia nuova creazione. Ma che cos'è? E lui? Il mio biscottone. E lei? Come grande. E lui? Lo so. Come quello di un amore. Vorrei ritrovare il sapore di quei tempi. Allora i biscotti erano grandi, grandi. E mi lo fai assaggiare? Ci metta. E lei? Ufff, com'è? Vediamo un po'. È davvero... Insupposo. 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 Supposo. Grazie a tutti.